Ciao a tutti, ben ritornati sul mio canale ricette sfiziose con Barbara. Oggi è domenica e io e Ariel prepariamo un cestino di frutta gigante con la crema pasticcera, quello che trovate nelle classici pasticcerie. Allora, cominciamo. Illustriamoci gli ingredienti. Per fare la base, quindi la base biscuit, ci serviranno 4 uova, 100 g di zucchero e 100 g di farina. E un po' di aroma al limone. Mentre per fare la crema ci serviranno 3 tuorli d'uovo, 5 cucchiai di zucchero e 3 cucchiai di farina. Beh, le dosi sono più o meno un tuorlo, un cucchiaio di farina, un tuorlo, 2 cucchiai di zucchero. E ovviamente il nostro aroma al limone è mezzo litro di latte. Quindi dopo ci sono le proporzioni in base alle uova che utilizzate. Giusto? Bene. Cominciamo con... Prendi il patitore, dai! Bisogna montare le nostre uova con lo zucchero. Pronta? Vai! Come potete vedere le uova si sono montate moltissimo, sono belle soffici. Aspetta, aspetta che vediamo meglio qua. Vai a vedere Ariel! Eccolo qua! E adesso inseriamo piano piano la farina. Attacca? Attacca! Vai! e ora inseriamo il nostro aroma, frulliamo ancora giusto 2 minuti, neanche, anche meno 30 secondi che l'aroma vada in tutta l'impasto e poi lo allivieremo e lo metteremo nella nostro stampo per crostata. Guarda qua, guarda, prendi sotto la spatolina, quella per i dolci. Qua abbiamo fatto un bel impasto. Questo non ci serve più. Ah, inconvenienti. I paricoli del mestiere. Eccoci, adesso mettiamo nel nostro stampo per crostata, imburrato e infarinato come che volete con l'olio o con il burro. E via! Ah, se dimenticavo che noi la decoreremo con la frutta. Che frutta? A vostra scelta. Oggi, che è ancora primavera, metteremo le fragole. Potete fare fragole, vediamo poi se non ci bastano, mettiamo fragole e banana o anche un kiwi. Vedremo dopo in corso d'opera. Questo è il bello di inventarsi le ricette. Ecco fatto. Adesso il nostro forno è già caldo, che l'ho già scaldato prima. La inforneremo a 180 gradi per 10 minuti, sempre controllando. E nel mentre che la nostra torta sarà in forno, prepareremo la crema pasticciara. Perché la torta e la crema, poi per poter essere decorata, devono essere fredde. Quindi dovremo lasciare un po' a raffreddare. Pronta? Infornato! Inforniamo tutto. Una bella limelata. Via! Metti dentro che adesso facciamo la crema. Eccola qua. La nostra piccola cuoca. Ok. Cominciamo con la cremare. Pronta? Pentolina. Mamma, mettete gli ingredienti. Crustina. Pronta? Cominciamo. Mettiamo. Gira, 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 gira. Sposta un attimo lo zucchero. Vediamo meglio. Via uno. Vincola bene. E due. E due. E tre. Emma, quattro, e cinque, vai, e adesso, cucchiai, vai, mescola, mescola, vai, dai, fa muscoli, uno, perché comincia, due, ancora uno, e dopo mettiamo il latte, vai, tre, dura, vieni qui in qua, adesso mettiamo qua, ecco, eccoci, aspetta che adesso fa un attimo mamma qua, ok, poi la volta, eccoci, e adesso mettiamo il nostro mezzo litro di latte, Aria, metti intanto l'aroma, tieni, e il nostro, metti l'aroma, bravissima, accenderemo il fuoco, e poi continuando a mescolare col frustino, fino a quando diventerà la nostra cremina bella solida, ci vorranno 5 o 6 minuti, aspettiamo. Ecco, la nostra crema si è addensata, guardate che spettacolo, ed è buonissima, con un profumo di limone. La nostra torta, l'ho tirata fuori dal forno, ci ha messo 8 minuti nel mio forno, 180 gradi statico, vedete già bella colorata, era più gonfia, adesso si è un po' smontata. Adesso dobbiamo aspettare che la nostra crema e la nostra torta si raffreddi, ci vorranno mezz'ora, 40 minuti, e poi proseguiremo con la decorazione delle fragoline. Quindi, a tra poco! A tra poco! Eccoci, la nostra crema e la nostra torta si sono raffreddate, e ora possiamo parcirla. Io ho messo tutto fragoline, più o meno tra 250 grammi e 3 etti di fragole. La facciamo bella, bella ricca! Proprio come i cestini, quelli che si trovano nelle pasticcerie. Vedete che questa crema pasticcera è buonissima. L'ho collaudata e ve la passo a voi, la mia ricetta. Ariel è l'unica crema che mangia, è vero questa? Quella è anche quella di pasticceria, mangia. Mangia solo la crema fatta da mamma. E poi... Ariel, sei pronta per venire a decorare? Sì! Vieni! Ariel! Com'è la crema di mamma? Buona! Sarà ancora più buona dopo che la metteremo in frigo. Sarà ancora più buona. Fresca! Oggi poi è una bellissima giornata e oltretutto abbiamo degli amici a pranzo. In tempo di covid non si può dire queste cose, ma... Ma ormai siamo in zona bianca, quasi... No, da domani eh! Buono, insomma. Qua fa le spie! Ma mi sa che questa crostata in sei finirà subito. Vero Ariel? Metti via il gatto. Lavati le mani adesso. Ecco fatto. Incomincio io e poi proseguirà Ariel. Ho tagliato tutte le fragoline tipo cuoricino. In modo che così possiamo metterle. Come decoro. Pronta? Continuiamo. E proseguiamo così fino alla fine della nostra torta. Eccoci. Quasi finita. Ovviamente si è mangiata metà fragole. Perché le fragole sono troppo buone. Vero? Che bella! Poi potete mettere kiwi, pere, pesche. Adesso comincia pesca, albicocche, ciliegie. Ecco. Poi però per finire, come noi la mangiamo subito, le spendello con un po' di limone. Così non diventano nere. Non si ossidano. Non si ossidano. Non si ossidano. Bravo a termine tecnico qua dal nostro... Chimico eh? Chimico. Bene. Bene o male? Bene. Perché avevo finito? Ok. Allora, se questo video ti è piaciuto ti invito a mettere like e a condividere con i tuoi amici sui social, su whatsapp, dove vuoi. Basta che condividi così più gente vede meglio è per noi, vero? Che ci vede. Quindi, condividete e iscriveteci al nostro canale. Ciao! Ciao! Ciao!